Sarà la grande notte di Lara Mori stasera intorno alle 24 scende in pedana l'atleta valvernese che cercherà di strappare la qualificazione del suo cammino olimpico grande l'attesa soprattutto a Montevarchi dove Lara abita ed è cresciuta sportivamente sotto l'attenta guida di Stefania Bucci che di Lara è stata più di una istruttrice. Per la Bucci sarà un ritorno al passato visto che anche lei ha avuto le stesse sensazioni poiché ha partecipato alle olimpiadi di Montreal nel 1976. Una grande soddisfazione anche per la società ginnastica Giglio che è riuscita a piazzare un'altra sua tesserata alle olimpiadi. La Mori gareggerà nell'individuale dopo il dirottamento di Vanessa Ferrari nella prova a squadre. Lara alla vigilia non ha nascosto la sua emozione. Questa è la prova più importante della sua carriera.